Napoli-Liverpool 4-1 Il Napoli va letteralmente a asfaltare il Liverpool in questa partita di Champions di ieri 7 settembre 2022 Un poker di gol etico, azzardo a dire, maestoso da guardare, da ammirare Il Napoli entra in partita fin da subito, ma è proprio nel 31esimo del primo tempo che arriva il gol A firma di Andre Zampo, anguista o anghissa, che dir si voglia? Arriva poi il gol di Giovanni Simeone al 44esimo minuto di gioco Ed infine due gol di Zierinski, il primo che è appunto un rigore al quinto minuto di gioco del primo tempo E il secondo al 47esimo minuto di gioco del secondo tempo Partita piuttosto piacevole da guardare e da osservare Il Liverpool fa sottato un gol che arriva al 49esimo nel secondo tempo A firma di Luis Fernando Dias Non basta quest'unico gol a portare la vittoria nelle tasche del Liverpool Che in maniera piuttosto sconsiderata non riesce a vincere E perde clamorosamente una partita di calcio Che poteva, effettivamente parlando, essere per lui utile Il risultato è stato scontato, banale secondo di più Anche perché il Liverpool non è stata all'attezza della situazione Ma il Napoli è riuscito a fare tutto questo In maniera carica e barata, credentosa e capace Il primo del mio è qualsiasi che avrei avvenuto un altro video